Nonostante le multe elevate dai carabinieri del NAS coordinati dal comandante Domenico Candelli a due visitatrici a un addetto alle pulizie sorpresi a fumare sulle scale dell'ospedale di Pescara, qualche indisciplinato continua a violare le regole, come mostrano le immagini che abbiamo girato proprio questa mattina. I controlli disposti dal Ministero per tutelare la salute pubblica proseguono sia negli ospedali che in tutti i luoghi pubblici. Dopo il tragico incendio avvenuto il 20 maggio scorso nella clinica Villa Serena di Città Sant'Angelo, che è costato la vita a due pazienti, poche ore dopo sempre un mozzicone di sigaretta ha causato un principio di incendio in un ospedale a Pescara, che fortunatamente è stato immediatamente spento. Sia l'azienda sanitaria, come ci ha spiegato il direttore Valterio Fortunato, che il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, come ha ricordato il comandante Vincenzo Palano, sono da anni costantemente impegnati in attività di prevenzione attraverso molteplici iniziative. Intanto l'educazione alla prevenzione antifumo di tutto il personale dipendente mediante corsi, l'educazione ai cittadini attraverso iniziative del nostro Dipartimento di Prevenzione, che in occasioni pubbliche, aderendo alla giornata nazionale del fumo, aderendo a convegni, incontri con le comunità, divulga la cultura del non fumo. Questo per quanto riguarda l'educazione sanitaria. Poi noi nel nostro regolamento abbiamo l'applicazione della norma, per cui essendoci il divieto di fumo in tutti gli spazi ospedalieri interni ed esterni, abbiamo individuato una rete di responsabili, nel senso che i direttori delle unità operative sono responsabili della vigilanza antifumo nei loro rispettivi reparti. Individuano ognuno di loro un preposto che ha il compito di vigilare. C'è solo un elemento che è previsto dalla norma che consente il fumo nei reparti di psichiatria, dove ci sono spazi adeguatamente attrezzati, con ricambi d'aria adeguati e comunque sotto vigilanza. Un trasto agli incendi dovuto ai mozzicoli di sigaretta noi lo attuiamo mediante la segnaletica di sicurezza. Quindi fra le misure preventive che vengono imposte alle attività pericolose c'è quella della segnaletica che indichi quali sono le azioni, i comportamenti che non devono essere compiute. Quindi il divieto di fumo laddove ci sono questi luoghi pericolosi, oltre ad essere un divieto che una legge stabilisce che nei confronti della salute pubblica c'è anche un divieto che è diretto alla possibilità che questo fumo implichi la possibilità che si verifichi un incendio.